allora vi avevamo promesso un'incursione è appena partito un applauso non credo che sia per noi però comunque farei un tentativo molto idico a Fiorello questa cosa dai proviamo è che si chiama la signora Giovanna o ci cacciano oppure possiamo fare un seduzio facciamo passare prima Francesca con la camera Giovanna è la signora con la giacca bianca vediamo un po' guarda che ci cacciano non so se vi lui che potrebbe finire qui buongiorno è la stampa che arriva è un'incursione anticostituzionale abbiamo deciso buongiorno Giovanna siamo pronti liberi tutti ci hanno detto che è una signora sportiva che è una ragazza sportiva quindi incursioniamo così con questa scusa mi potete anche scritturare io mi candido però sono legata a questo quartiere sempre e vogliamo è un bel posto per fare i domiciliari di questi tempi Paolo non è proprio il quartiere migliore dove fare una sozione del genere non mi riferiva ai fatti della Liguria ma noi ne facciamo tanti i domiciliari perché il servizio di custodia sociale è un servizio che va a casa delle persone supporta cosa stiamo vedendo insieme a tutta questa bellissima noi abbiamo paura di essere menati ma no no noi siamo in cerca di pace uno dei libri che verrà presentato della dottoressa Daniela Belliti giovedì prossimo vi aspettiamo perché oggi nella Civil Week stiamo lanciando San Siro che legge perché San Siro è un quartiere problematico, complesso con tante anime e tante realtà e in questo giorno stiamo facendo parlare le anime belle in generale guardate che belle anime belle dove c'è tanto volontariato associazioni del terzo settore ci sono le istituzioni e sono qui presenti le università di Milano che di solito noi diciamo che le menti pensanti sono anche non sono non conoscono bene le realtà perché forse rimangono eh sì rimangono un po' nelle aule invece no invece no invece no in San Siro le università sono tra le persone le università sono tra le persone sono ascoltano le necessità del territorio per poi poter riportare fare delle riflessioni altre perché poi in ogni ehm su varie fasce eh della società perché comunque la democrazia è è la l'attivazione di di tutti di tutti perché grazie alla al creare comunità infatti qua sono presenti eh ci tenevo tanto eh la presenza della signora Silvana Schiavi eh che è la presidente dell'Ampi del di San Siro Martiri di San Siro abbiamo appunto le biblioteche che in quartiere eh le librerie che in quartiere sono attive in cerca di guai e ehm Cocodrilli è il nome sì sì no non sono in e anche quello che potrebbe succedere intanto andare troppo in giro qua oggi abbiamo avuto una donazione di libri eh da parte di un'associazione zero zero e la il masci sono gli scusate le spalle il masci sono gli scout adulti che eh in questi anni ci hanno accompagnato in vari progetti e qua cooperativa ha collaborato tanto con eh i nostri volontari eh che hanno attivato le biblioteche di prossimità qui in Micene e in via Giovio poi continuo con la professoressa Melissa Miedico della eh della dell'università Bocconi Claudia Ferredella della eh dell'università Bicocca eh eh Casarin concludiamo e mi pare che non che ringraziamo loro da vicino al suo posto va bene ci sta incursioni eh del Politecnico eh di Milano con un altro progetto la eh professoressa Alessia Di Pascale dell'università statale eh di Milano con un ulteriore progetto eh avevamo un nuovo scusate effettivamente noi ci teniamo tanta la parità di genere al fatto è abbia avevamo un uomo e un altro giornalista che purtroppo non è stato male giornalista Alan Shifo che ci sottolineava il fatto dell'importanza del tutelare della tutela dell'ambiente il suo libro eh se ecco la pesce si stabilisse e ritornerà e quindi avremo modo di gustare del suo libro e ehm tutto questo comunque qui per far capire che il territorio le istituzioni il volontariato i volontari la cultura insomma si possono unire i libri i libri i libri la carta guarda posso dire guarda c'è un signore con un giornale di carta io dove l'ha trovato sono abbonato da anni due giornali guarda due giornali uno tre giornali di carta allora allora ti do un'altra notizia allora il signore non so come perché ormai è difficile ha comprato un giornale difficile cioè cosa è molto favore io lo leggo la Repubblica ma non l'ho mai comprato in vita perché non piace la lettura però non spendo soldi inutilmente sono così passionati a lui e quella Repubblica gli regalano il giornale ma la signora che insomma ricordiamo ricordo la presidente dell'ampi di San Sio cosa mi ha appena detto che lei io ho lasciato a casa il cellulare sono una rarità e spero di sopravvivere queste due ore senza vuole fare una telefonata così a caso a casa ma cosa cosa sta facendo stiamo riprendo con un cellulare non il suo però eh non usiamo il suo ci mancherebbe Paolo direi che abbiamo abbastanza disturbato abbastanza prima che ci vieni sì perché non so se esiste un articolo da costruzione che ci possa salvare da questa cosa quindi grazie mille è una persona di poche parole quindi ci mancherebbe scusate ci terrei a citare pure le varie associazioni che fanno corsi di italiano per stranieri Tama mammascuola punto it poi abbiamo delle associazioni il telaio delle arti il laboratorio di quartiere che è molto attivo in quartiere il comitato di quartiere che attiva tanto il fare assieme bravi scusate se mi dimentico di qualcuno perdonatemi le ho già dette eh sì perché i volontari hai capito che mi cede allora direi di chiudere un'altra scuola alfabetica è un'altra scuola alfabetica bravi bravissima conosciamo benissimo di gino tutto insomma o municipio 7 è veramente una grande va bene allora direi di chiudere a questo punto con un grandissimo applauso che facciamo a tutti i volontari del municipio 7 e a tutta la civil week 2024 bravi scusate buon lavoro